Dai! Questo è il mio canale di recensioni di prodotti. In questo canale esaminiamo vari prodotti. Tutti i video delle recensioni sono di ottima qualità. E il 90% degli iscritti è felice di guardare i video sul nostro canale. Scegliamo il meglio. Prodotti dal mercato e stare al passo con le recensioni. Spero piaccia anche a te. Se tu Metti mi piace al mio video, assicurati di iscriverti al nostro canale. E dopo aver visto il video, lasciaci. Conoscere la tua opinione nella casella dei commenti. Se vuoi saperne di più su tutti i prodotti. Vedere il collegamento fornito nella casella di descrizione. Oggi parleremo di top 5 migliori auricolari bluetooth per telefonare. In questo momento iniziamo 5 dettagli del prodotto della migliore qualità seriale per seriale. Quindi guarda il video per Visione del prodotto e ascoltare la tua migliore aspettativa. Inizia i dettagli del prodotto dei 5 migliori sul mercato. Descrizione del prodotto TWS e Bluetooth 5.0 Adotta la tecnologia Bluetooth 5.0 più avanzata. Air Plus Pro 4 supporta HSP, HFP, A2DP, AVRCP. Fornisce audio stereo durante la chiamata. Possiede anche una trasmissione veloce e stabile senza grovigli. Qualità del suono stereo Hi-Fi, Air Plus Pro 4 offre un suono veramente naturale e autentico e potenti prestazioni dei bassi con driver dell'altoparlante di grandi dimensioni da 13. 2 mm accoppiamento in un passaggio, raccogli due auricolari dalla scatola di ricarica, si collegheranno automaticamente. Quindi solo un passaggio entra facilmente nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare per accoppiare gli auricolari. Impermeabilità EPUX 5, gli auricolari e la custodia di ricarica interna in rivestimento nano lo rendono possibile impermeabilizzare per un metro di profondità per 30 minuti. È adatto per gli sport per prevenire l'acqua. Gli auricolari wireless Air Plus Pro 4 possono durare per oltre 6 ore di riproduzione con una singola carica e 24 ore extra nella custodia di ricarica compatta. Fornisce un comodo modo di ricarica senza stringhe attaccate. Fascia regolabile con imbottitura morbida e grandi e comodi padiglioni imbottiti extra progettati per offrire il massimo comfort per lunghi periodi di ascolto e visione. Leggero a soli 7 once. I cuscinetti auricolari completamente sigillati non solo isolano efficacemente il rumore, ma riducono anche la dispersione del suono, restituiscono un dolce sogno alle vostre famiglie. La modalità di cancellazione del rumore si regola automaticamente in ambienti diversi per un effetto più adatto e confortevole. Grazie per aver guardato questo video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.